Ho qui il tuo kit per il diabete. Beh, dammi un po'. Non mi piacciono i dolci. Li porto solo nel caso in cui venisse voglia a te. Che carino. Ma sai chi è che alla fine li mangia tutti? Chi? Io. Ma mi sono messo a dieta. Ora faccio pilates. Faccio spinning anche. Mangio insalata. Della lattuga con una montagna di blue cheese non è insalata. Se il menù dice che è un'insalata, allora è una maledetta insalata. Non è un'insalata. Vediamo la lista. Non mi va di vedere la lista. Grace, per favore. Guarda che scendo subito da questo cavolo di aereo. Tu puoi scendere dall'aereo, Jack? Come credi di poter scendere? Te l'ho comprato io o sbaglio? La mia voce l'ha comprato a me. Questo è solo un cavillo. Dammi un'altra liquirizia. No, accetto. Il 40% è mio. Incredibile. ritual. Grazie.